Eccoci qua, buonasera a tutti, io sono Federico Miccioni e benvenuti anche in questa lezione che facciamo alle 9 di sera così cerchiamo di coinvolgere tutte le persone che magari hanno già riniziato a lavorare, per fortuna, quindi riusciamo a vedere, c'è più persone che si collegano in diretta contemporaneamente. Bene, allora questa sera praticamente parlerò delle 5 regole del ritratto fotografico, vi farò vedere ovviamente degli esempi, li commenterò e vi spiegherò le varie regole, come le ho applicate appunto nelle mie fotografie. In questa location, in questo punto dove sto facendo la lezione, come potete notare in fondo Horus che sta giocando, perché praticamente Gris è voluta uscire, quindi sta sotto l'acqua a saltare, Horus, dato che ha il pelo lungo, non l'ho fatto uscire, quindi in questo caso lo vedrete che mi farà sicuramente dei dispetti, perché quando non lo faccio uscire dopo vuole giocare con me, quindi sarà di compagnia anche Horus questa sera, dai. Ma prima di iniziare nel vivo appunto della lezione, come sempre, vi farò vedere delle, diciamo, delle fotografie fatte dai nostri studenti. Perfetto, molto bene, iniziamo con questo scatto di Mamali, ok, lui ci presenta sempre dei ottimi bianchi e neri, dei scatti molto interessanti, andiamo a vedere questa immagine, allora, durante 1416 a Perugia, allora lo scatto è interessante, fatto bene dal punto di vista della luce, vedo una bella luce che illumina il soggetto, il primo piano che sta al centro del soggetto, in questo caso, e sulla sinistra vedo subito un'altra persona che sta camminando, che sta venendo avanti, hai fatto bene a non sovrapporle, no? Questo è fondamentale, non sovrapporre a volte i soggetti, perché può creare un elemento di disturbo, un fastidio, diciamo, no? Mentre invece l'unica cosa che a me è un pochino da fastidio, sai qual è? È quel signore di spalle, credo che sia un fotografo a vederlo, perché ha in mano una videocamera o una fotocamera, fotografato di spalle, ok, che è coinvolgimento del soggetto, però a mio avviso è un pochino stona quella figura là che sta fotografando, sta facendo un video e magari l'hai fotografato di spalle e hai fatto bene, però in quel caso gli avrei stretto di più l'inquadratura verso la ragazza che sta sfilando, mostrando magari migliori interessi verso appunto la ragazza che sta camminando e anche le persone che stanno avanzando, quindi avrei stretto l'inquadratura spostandomi un pochino più verso sinistra. Sicuramente lo scatto sarebbe risultato molto più interessante che magari mettendo in evidenza, perché la persona di destra va su un punto forte della regola dei terzi, quindi lo notiamo un pochino troppo, anche perché è molto ben illuminato, è bianco e nero, c'è la parte sopra bianca, la parte sotto nera, bella l'idea, però in quel caso ci porta troppo l'attenzione su di lui, quindi non è diciamo tra i miei scatti preferiti, questo avrei preferito da parte tua che tu avessi stretto un pochino più verso la ragazza di sinistra, però ottima la luce e ottima anche la realizzazione del bianco e nero, hai fatto un'ottima scala tonale, quindi un bel bianco e nero con dei grigi molto intensi, con i neri profondi, i bianchi puri, quindi ottimo scatto anche per te dal punto di vista della post-produzione. Dal punto di vista del taglio personalmente avrei appunto fatto come ti ho appena consigliato. Bene, ok, vediamo invece questo scatto che ce lo manda Stefania. Allora, questo scatto della luna è molto ben fatto, anche questo, vediamo una buona definizione della luna perché hai utilizzato appunto, mi hai scritto un 300 mm, quindi un teleobiettivo abbastanza potente, quindi si vede che hai zoomato abbastanza per poter vedere e mettere in evidenza appunto i vari dettagli della luna. Allora, zoomando l'immagine, ora magari a schermo non si vede bene, noto che c'è un leggero micromosso e anche se hai scattato i miscrivi a un 250esimo, quindi un tempo abbastanza riloce per congelare il movimento anche della luna perché la luna si muove nel cielo, si sposta al cielo e quindi spostandosi crea questo effetto di mosso se tu usi un tempo troppo lento. Però secondo me più che il mosso in sé, questa mancanza di nitidezza, anche un po' di tremolio dato anche se era sul treppiedi, però vedo che c'è un micromovimento dell'ottica perché magari un 250esimo non è stato sufficiente per congelare anche questo micromosso. Probabilmente prova a scattare a un 500esimo, un tempo più veloce, anche perché ho visto che hai utilizzato un diaframma 8, un diaframma 8 è abbastanza chiuso, puoi anche portarla a 5-6 perché tanto la profondità di campo sulla luna è quella, diciamo quindi non è che ti fa volume o profondità, quindi 5-6 di diaframma può essere più che sufficiente per scattare a 300 e oltre a questo ti permette di avere maggiore velocità con i tempi, quindi scattare magari a tempi più rapidi per evitare questo micromosso. Un'altra tecnica per evitare appunto il micromosso è quella di utilizzare anche un motore con un telescopio, a volte i telescopi, so che chiaramente è un'attrezzatura più costosa che un solo treppiedino, però se utilizzi un motore diciamo che ti permette appunto di inseguire gli astri quando si muovono nel cielo, ti permette di evitare appunto lo spostamento dell'astro sul cielo e quindi evitare il mosso appunto del suo movimento. Questo grazie a un motore ti permette appunto di migliorare questo difetto di stabilità che è dato appunto dal micromosso, dato dal movimento dell'astro e anche forse, questo non lo so, un micromovimento del tuo obiettivo, perché un 300 magari, ah poi un'altra cosa, quando lo monti sul treppiedi è importante che sia montato, allora ci sono alcuni teleobiettivi tipo 300 mm che hanno l'attacco per il treppiedi direttamente nell'obiettivo, se hai questa possibilità utilizza questo metodo perché si bilancia meglio il peso della fotocamera con il teleobiettivo. Bene, comunque ottimo scatto ovviamente. Bene, ok, questo scatto invece ce lo manda Laura. Allora, come scatto è interessante perché è una foto di fiori, bello che il bianco con il verde che contrastano, però ci sono alcuni difetti e te li voglio dire. Il primo è che il fiore è molto luminoso però si trova in una zona d'ombra rispetto allo sfondo che è più chiaro, la parte superiore diciamo dello scatto. Personalmente avrei preferito posizionare il fiore oppure aspettare che si spostasse il sole quando si trova appunto illuminato dal sole non all'ombra perché se sta all'ombra il fiore e la parte superiore è illuminata dal sole l'attenzione va nella parte superiore non nel fiore quindi o è tutta all'ombra o è tutta al sole per dire l'immagine oppure il sole finisce solo sul fiore così lo mette in evidenza e l'occhio ti va a cadere lì. Poi un'altra cosa molto importante è la pulizia dell'immagine. La pulizia dell'immagine io lo dico sempre, questa sera ovviamente ne riparlerò. Se ci fate caso in basso a sinistra ci sta diciamo ancora la pavimentazione, credo anche la fioriera che un pochino attira la nostra attenzione quindi è un elemento considerato di disturbo. Lo stesso sopra il fiore vedo una strisciolina nera, non so se è una parte sempre di una fioriera che però non rende l'immagine armoniosa quindi probabilmente potresti stringere un pochino più l'inquadratura e fotografare anche con una luce migliore. Sicuramente il risultato risulterebbe molto molto migliore. Però ottimo scatto, continuo a mandarceli e bene. Ok, perfetto. Ok, questa sera appunto parleremo delle cinque regole del ritratto fotografico. Sono molto importanti perché il ritratto fotografico... Horus continua a dormire dietro, quindi ancora è buonino, meglio così. Ok, il ritratto fotografico è molto importante, non è semplicemente scattare a caso tante foto sperando che una venga bene come in tutti i tipi di fotografie, ma soprattutto sul ritratto quando c'è una figura umana che dobbiamo mettere in evidenza alcuni aspetti quindi è fondamentale almeno non rispettarle per forza le regole ma seguirle per far sì che le vostre foto siano migliori che magari le foto comuni che vediamo in giro. Cercare di superare un pochino lo standard qualitativo. Se le rispettate sicuramente otterrete dei risultati migliori. Allora, qual è la prima regola? La prima regola è quella di mettere sempre a fuoco gli occhi del nostro soggetto. Che vi guardi o non vi guardi è indifferente. L'importante è che i suoi occhi siano a fuoco perché se voi mettete a fuoco il naso, la bocca, gli orecchi, oppure le orecchie, oppure gli occhi e l'occhiale invece che rispetto l'occhio, sono confuso occhiale occhio, se per sbaglio mettete a fuoco appunto l'occhiale, l'occhio va in fuori fuoco quindi è leggermente morbido e il soggetto più interessante del volto è appunto lo sguardo, l'occhio. Se riuscite a mettere a fuoco bene l'occhio sicuramente il risultato è migliore per dire. Mentre invece se mettete a fuoco l'occhiale l'occhio va in secondo piano. Questo è fondamentale. Poi la seconda regola è appunto sempre per quanto riguarda lo sguardo è non farvi mai guardare, non guardare la fotocamera. Non guardare la fotocamera che significa che non voi ovviamente, chi fotografate, il soggetto che fotografate non deve guardare così l'obiettivo, mai. Perché così è una foto tessera. Magari vi può guardare ma non vedrete, ho delle foto che sembra che mi guarda, ma non mi guarda se ci fate caso, guarda dietro di me. Io indico sempre ai soggetti che fotografo di non guardare direttamente me, ma dietro di me. Questo è molto importante. C'è Iris che vuole rientrare e adesso aspetti fuori. E ogni tanto escono e entrano di continuo poi con la pioggia e si divertono tantissimo. Bene. Terza regola è la luce. La luce è una delle regole sempre più importanti in fotografia ma la luce per quanto riguarda il ritratto e poi vedremo sui vari esempi è fondamentale perché vi permette di mettere in evidenza i difetti oppure nasconderli. Vi permette di giocare con i dettagli, vi permette di enfatizzare alcune scene e enfatizzarne altre e creare tridimensionalità o appunto immagini più piatte. Questo dipende dall'effetto che volete fare. Poi la quarta regola è il taglio fotografico, appunto la composizione però viene chiamato taglio fotografico. Il tipo di scatto che si fa è dove cerchiamo di mettere in evidenza appunto il soggetto rispetto ad altri elementi. Giochiamo appunto con il posizionamento del volto, con il posizionamento del corpo. Esempio, ci sono alcuni tagli sbagliati che sono appunto quello di inquadrare una persona con magari i piedi tagliati, magari tutta la sagoma soltanto i piedi tagliati perché anche la fotografia di un soggetto intero è considerato sempre ritratto. Non per forza dovete solo fare il volto stretto, quello è il ritratto stretto ovviamente. Ci sono varie tipologie di ritratto. Quindi il taglio fotografico è importante che sia giusto, che per dire oppure a volte quando fate delle foto di gruppo, a volte io dico sempre per scherzo abbassala, magari vedi una persona che abbraccia l'altra, sembra la manina della famiglia Adams, dico sempre io guarda togli la mano perché magari è brutta nel senso che a volte ci sono piccoli dettagli sul taglio fotografico che vanno curati. Questo per permettere di chi osserva le nostre immagini di capire che lo scatto è ben curato, non ha elementi di disturbo e ti guida ad osservare appunto quello che è il soggetto per per appunto il ritratto della persona che abbiamo voluto fotografare o anche più persone contemporaneamente. Poi, allora, siamo alla quinta regola, è il posato o l'istantanea? Perché molti credono che la fotografia di ritratto sia soltanto un posato, una foto diciamo dove il soggetto è fermo, tu gli dici quello che deve fare, guarda dove vuoi e quindi pensano che è quello il ritratto, invece no, il ritratto è anche quando il soggetto appunto potete comandarlo, tra virgolette, dire guarda qui, guarda là, sta qui, sta là e quindi si chiama ritratto posato, non è sbagliato, molti dicono è più bella la foto spontanea, io dico sempre dipende dal tipo di foto che fate, io preferisco le foto spontanee ovviamente, scattare foto spontanee, però chiaramente il ritratto posato fatto con una modella oppure con una persona che gli piace essere fotografata può essere interessante per alcune situazioni. Poi esiste appunto il ritratto istantaneo, non c'è l'istantanea, quindi una foto fatta senza che noi diciamo niente al nostro soggetto, facciamo degli scatti rubati cercando di catturare il soggetto in base a quello che sta facendo senza che lui se ne accorga e poi gliela mostriamo magari per far vedere a lui che l'abbiamo catturato in quel determinato momento. Bene, ora andiamo a vedere appunto delle foto che ho fatto e da queste foto vi farò appunto un riepilogo delle varie regole come le ho applicate appunto. Ok, questo è un ritratto posato, fatto in sala di posa, un ritratto professionale appunto, fatto con molte luci, nel senso che è utilizzato, cioè Iris che vuole rientrare, adesso aspetti, scusate in seconda, devo farla rientrare. Ecco la rientrata subito per fortuna, se no ogni tanto ci gioca, no? Perché vado là, quindi vuole vedere se gli voglio bene e quindi si mette lì a correre qui, correre là, alla fine adesso si è fermata, quindi va bene così. Ha voluto rientrare, sicuramente è andata a mangiare per quello. Ok, quindi per dire, in questo caso ho utilizzato molte luci flash, ho tre flash professionali per fare questo effetto, diciamo, di luce molto morbida sul suo volto. C'è un'ombra, se ci fate caso, sulla mano, no? Che proietta un'ombra di lei, però realmente è una luce molto morbida per avere questo effetto molto beauty, molto delicato sui sitratti e illuminare bene i suoi occhi, perché ha un trucco particolare nello sguardo, dei gioielli molto belli e quindi per dire, giocando, questa era una pubblicità appunto per un'azienda che vende gioielli a Perugia, e per dirvi, in questo caso l'effetto della brillantezza dei gioielli deve essere più o meno simile a quello degli occhi, per avere un contrasto tra le due parti. Il trucco della bocca e vari aspetti servono appunto per valorizzare il soggetto. In questo caso è un taglio orizzontale, dove la mano copre un pochino il volto, mettendo in evidenza i suoi occhi e il gioiello. Non volevo che i capelli andassero troppo in primo piano, forse quello è un basso a sinistra sì, perché è dorato, riporta un pochino sul dorato del volto, fino ad osservare anche i gioielli che ha sul braccio. Lo stesso per quanto riguarda questa ragazzina, ha saltato la foto, dopo c'è un'altra di ritratto, ma poi la faccio vedere, questa che già vi ho fatto vedere negli altri ritratti, nell'altra lezioni precedenti, per dire la ragazzina che ho fotografato in Africa, per dire, l'ho posizionata appunto, glielo ho chiesto io insieme alle maestre quando facevamo appunto il reportage in questa scuola giù a Kibera, in Kenya, ho chiesto a lei di stare su questo sfondo che era appunto una porta, una porta blu, perché mi piaceva il blu e il rosso che contrastavano insieme. Ho chiesto non di guardare me, se ci fate caso, il suo sguardo non guarda me, ma guarda dietro di me. Lo sguardo sembra che è rivolta chi osserva, ma se guardate da vicino non guarda direttamente l'obiettivo. Ho fatto più scatti, ma lo scatto dove lei mi guardava nell'obiettivo l'ho scartato. Ho scelto quello che leggermente guardava dietro di me, perché questa appunto, come dicevo prima, è una regola di non guardare verso la fotocamera, di guardare dietro il soggetto, quindi l'effetto è molto più piacevole, è molto più preciso e poi non sembra quasi che lei stia lì per me. Cioè è un ritratto posato, ma sembra meno posato, per dire questo è lo scopo appunto del ritratto, quando il soggetto ti guarda o che ti vuole guardare e sa che lo stai fotografando, però sei tu che devi essere abili a far sì che non sembri che ti stia guardando. Diciamo appunto gli dici non guardare me direttamente, guarda leggermente qua, oppure io a volte ho magari un assistente con me, dico guarda un attimo il mio assistente, guarda un attimo lui e per dire da quello riesco a scattare un'istantanea nel ritratto posato, per dire questo è fondamentale. Questo è un altro ritratto sempre fatto alla modella di prima, in questo caso guardate il gioiello che è sul volto, sempre con le stesse luci molto morbide, che fanno questo effetto di diffusione generale con i flash, in questo caso l'occhio che è leggermente coperto dal gioiello, l'altro occhio che va più in evidenza, però tu vai a guardare seguendo la linea della mano, guardi il suo volto che è tagliato diagonalmente, poi risali, è quasi un volto che sembra una maschera, con questo sfondo nero volutamente utilizzato, con questo taglio appunto inclinato, dove sembra quasi che il gioiello gli finisca proprio sul volto, cioè perché lo tiene sopra con la mano, per dire, oppure anche questa che si copre leggermente il volto, sempre mettendo in evidenza il gioiello, ho voluto giocare molto con i suoi occhi e con questi gioielli, cercando di far sì che sembrassero sempre brillanti come i suoi occhi, questo gioco di luci. Poi qua abbiamo utilizzato anche qui con i miei assistenti tre flash, uno da dietro, anche io quando scatto c'è sempre chi ovviamente mi fa l'assistente in certi servizi e chiedo sempre a volte l'impossibile, sono sempre molto esigente, dico guarda, timmi il flash fermo così, perché non sempre utilizzo i stativi, a volte dipende dalle situazioni, magari utilizzo appunto un soggetto che mi lo tiene in mano, il flash che si sposta, questo perché mi permette di cambiare molto rapidamente il punto di luce, il punto di contrasto, quindi è per questo che utilizzo non sempre gli stativi, a volte chiaramente si utilizzo anche gli stativi, però per dire in questo caso c'è una luce guardate molto morbida sul volto e anche una dall'alto verso il basso che mette in evidenza sia la bocca, occhio e gioiello, per dire. Questi sono i vari ritratti che si fanno appunto per quanto riguarda la foto ritrattistica posata in studio, diciamo, si può dire. Bene, questo invece è un ritratto istantaneo, nel senso che qua mi trovavo a Chinatown, a New York, e per dire, mentre giravo, facevo foto di street photography, mi piaceva molto fotografare le persone facendo dei ritratti. Guardate bene, questo è un ritratto di una signora cinese che sta parlando con il suo smartphone, non guarda a me, non si accorta che la sto fotografando, sta camminando, e ho utilizzato però uno sfondo, che è una sara cinesca, pulito per fare le linee guida, di modo che chi entra nell'immagine segue queste linee e va a finire su di lei. È un'immagine detto pulita, nel senso che nell'insieme dello sfondo ci sono pochi elementi che distraggono. Tu quindi noti la signora, per forza, è un'istantanea, ovviamente, con lo sguardo, diciamo, rivolto, magari sta concentrata nella telefonata, ma anche si accorta appunto che lo sto fotografando, e questo è importante. Dopo per dire gliel'ho fatta vedere, ha sorriso tantissimo per dire, questo è bello perché magari una persona concentrata a fare altro, tu la fotografi e dopo gli fai vedere lo scatto e rimani sorprea. A volte c'è chi si arrabbia pure, quindi occhio a quando fotografate le persone in street photography, si sono soprattutto bambini che non sono figli vostri, non li fotografate perché non si può, diciamo, una persona adulta, se gli fai vedere la foto, una persona con un po' di buonsenso, chiaramente è contenta, non è che gli dà fastidio, a meno che non fai una foto che la deridi, ovviamente, no? Quindi, bene, faccio vedere anche sempre qua, c'è Natal, mi piaceva un ritratto sempre istantaneo, fatta al momento, preso al volo, per dire, questo era un barbiere che stava appunto tagliando i capelli a un suo cliente attraverso un vetro, ho fatto questo ritratto, ho voluto giocare molto con questo riflesso che nascondeva appunto il suo cliente perché mi permetteva di mettere in evidenza appunto lui, che è il barbiere che sta lavorando, mi piaceva l'idea del volto suo, no? Che è anziano, che sta lavorando, ambientato nella sua bottega, mi piaceva molto per dire curare anche lo sfondo, in questo caso ho cercato di incastrare la sua testa su quella parte là che riflette una parte chiara e la parte sopra che è un pochino più scura, di modo che fa contrasto e tu che entri dentro, guardi l'immagine, noti il suo volto più degli altri perché è più chiaro dello sfondo per dire. Quindi c'è questo gioco di contrasti tra il primo piano appunto che è tagliato appunto dalla persona che è il cliente con questa linea e la parte superiore del signore, del barbiere che sta lavorando, che gioca diciamo con il pennello perché stava facendogli, hai visto la pulizia del viso, no? prima di radirlo, quindi scherzavano tra loro. Ok, questa invece è un'istantanea, sempre a Chinatown, non è una ragazza cinese, una ragazza di New York americana, però per dire un'istantanea al volo, appena lei non ha guardato meno, ho fatto 3-4 foto, ho chiesto a lei in questo caso di fargli la foto, quindi era un ritratto posato, mi piaceva al suo volto, aveva uno sguardo molto intenso, particolare, poi era con questo cappuccione grande, parlava al telefono, era interessante come soggetto con l'abito chiaro, lo sfondo era abbastanza scuro, ambientato, perché a volte i ritratti, sul taglio fotografico, li puoi fare anche ambientati. Non per forza devi far foto dove lo sfondo, per dire, è completamente nero, completamente bianco, ci devono essere più elementi, come per dire questa sera su di me, dietro, non c'ho per forza lo sfondo tutto chiaro, ho degli elementi, per dire, nella mia sala, questo serve a far vedere anche lo sfondo, per creare un'ambientazione diversa dal nostro ritratto, per dire, lei non guarda me, ma guarda dietro di me, come dicevo, le foto dove lei mi guardava le ho scartate, perché ovviamente a volte ti guardano, però io a volte dico, no, non guardare, mi guarda dietro, ma bac, dici, no, così, e lei per dire, guardando dietro di me, ho fatto questo scatto perché mi piaceva il suo sguardo, che andava oltre me, no, l'idea che non fosse lì. Il soggetto, vedi, è posizionato in un punto strategico, dove la parte più scura della porta, nera, con il 181, no, con la scritta, con la linea bassa che riporta a guardare il soggetto verso l'alto. Lo stesso la parte è un pochino un grigio medio, dove la porta dietro fa la chiusura, fateci caso, sul lato sinistro della ragazza c'è una porta leggermente quasi aperta, che sembra che lei sia incastrata tra le due porte, per dire, ho voluto giocare un pochino con queste prospettive sul taglio fotografico, che è molto importante, la luce è una luce diffusa, naturale, senza flash, senza niente. Perfetto, oppure anche questa è un'istantanea, fotografando, a me piacevano queste due persone perché ho visto una ragazza afroamericana, l'altra cinese, sempre a Chinatown, sempre americana, ovviamente, però mi piacevano far vedere che New York è vista multietnica, quindi ha varie culture, varie tipologie di persone, differenti stili di vestirsi, magari la ragazza afroamericana è molto bella, molto alta, per dire, ha una pelliccia, una borsa di marca, per dire, la ragazza anche cinese, diciamo, anche lei ha degli abiti di marca, però è più piccolina di altezza, mi piaceva che si trovava nella parte della strada, con dietro guardate vari elementi, nel senso che arriva lo spalatore, che perché c'era tanta neve quel giorno a New York, quindi far vedere anche quello che succede in una scena, quindi un ritratto ambientato è un ritratto che ha un senso, nel senso che ti fa pensare anche un pochino alla scena, quindi il soggetto, in questo caso, è ambientato nel punto, appunto, dove vive, o dove sta andando a fare spesa, però allo stesso tempo non mi nota, non mi vede, quindi è sempre un'istantanea, e la ragazza, diciamo, cinese si trova vicino, fateci caso, c'è un tipo un alone, perché era attraverso una vetrina, perché stavo fotografando attraverso un negozio, quindi c'è questa parte qua, un pochino bagnata dall'acqua, che fa da contorno, sembra quasi gelatina, colorata, laterale, cercando a volte di utilizzare questi elementi per creare un po' di riempimento, di modo che l'occhio, chi guarda, guarda lei, e guarda anche l'altra ragazza, questo è molto importante, oppure anche queste ragazze, che ovviamente si sono accorte che le stavo fotografando, infatti si sono messe a ridere, però è carino anche questo, perché puoi creare delle scene simpatiche, di persone magari che si muovono, tu le puoi fotografare, guardate qua è un mezzo busto, il taglio è al ginocchio, il taglio è l'americana, chiamato, e poco sopra l'americana, quasi un mezzo busto, diciamo, proprio mi piaceva l'idea di loro due, e dietro c'è un ragazzo, guardate, che sta avvicinandosi, quindi tre volti, uno piccolo e due più grandi, però mi piaceva che loro ridevano tra loro, vedevano che io le stavo fotografando, le foto che ho scelto non sono quelle dove mi guardano tutte e due, di quella che ride, che lei sta abbracciando l'altra, però la ragazza al centro non guarda a me, ma guarda dietro di me, quindi se voi avete tante foto di un soggetto che avete fotografato, scegliete quella che non vi guarda direttamente, scegliete quella che guarda leggermente più lontano rispetto alla vostra posizione, questo è molto importante, bene, questa è la signora di prima, ok, benissimo, ora per la gioia di tutti, abbiamo qualche ritratto anche del nostro amore piccolissimo Leon, che è piccolissima, adesso è diventato già domani, fa otto mesi, quindi già è grandicella, ha iniziato a gattonare, quindi ecco le prime foto mentre sta gattonando, allora questo scatto per dire, fateci caso, Leon quando ha iniziato a gattonare, non vi rendete conto, parte e non si ferma, va a tutte le parti, quindi è faticosissimo anche per me fotografarlo, perché lui vuole prendere la mia fotocamera, la mia tracolla, quindi come l'appoggio in terra, lui la vuole prendere, quindi devo scappare sempre, e quindi lui mi insegue di continuo, e quindi la messa a fuoco è molto problematica, perché lui muovendosi è facile che va fuori fuoco, però ho usato questa tecnica scattando proprio dall'altezza del terreno a terra, proprio dal pavimento, utilizzando lo schermo live view, proprio lo schermino della fotocamera, e oltre questo ho utilizzato un diaframma molto aperto, fateci caso, lo sfondo, ci sono alcuni, fermo Horus, ci sono alcuni elementi sullo sfondo, ma li ho annullati con l'utilizzo del diaframma aperto, quindi vedete che il volto di Leon e gli occhi, il viso sono a fuoco, già i suoi piedi, già le sue mani, e dico i piedi perché c'è Horus che adesso mi vuole dormire sul braccio, Horus fa il bravo, fatti vedere, saluta, vieni qua, saluta un attimino, eccolo qua, ecco qua, però adesso devo fare la lezione amore, quindi vado un attimino, che lui è abituato a Horus, certe volte quando lavoro a Maria il computer, lui mi si addormenta sul braccio, però devo muovere il mouse, quindi è un problema, quindi ogni tanto lo sveglio, se arrabbia mi dai morsini per gioco, quindi con lui è come un figlio Horus, proprio uguale, in questo caso torniamo a Leon, Leon per dire ho messo a punta fuoco solo gli occhi, il naso e la bocca, diaframma 1.4, quindi molto aperto, lo sfondo sparito, non c'è, 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 però diciamo non notate bene i dettagli, diciamo si intravedono alcuni elementi, ma non troppo, nel senso che l'occhio di chi osserva questa foto va a guardare lui, che è molto centrato poi, nella parte centrale, volutamente, perché lui sta guardando non me, ma dietro di me, cioè ho fatto vari scatti come vi ho detto, però questo che lui sta guardando, sta guardando me perché la fotocamera è più bassa, ho alzato la testa così, lui guarda, facevo così con gli occhiali, lui guardava me, quindi lo sguardo è un pochino più verso l'alto, se ci fate caso non è, verso l'obiettivo, e questo fa una gran differenza, è fondamentale, poi la sua posizione, che tiene le braccia un pochino così e così, dà un senso un pochino del gattonamento, del movimento suo, per dire, e c'ha la manina leggermente piegata, non tutta aperta, si vede un dito sembra piegato, un pochino quello perché è leggermente più dietro, però ecco, ci sono dei dettagli che però, utilizzando appunto il diaframma aperto, il fuoco va sul volto, ma non sul corpicino suo, e anche sullo sfondo, per dire, questo è importante, quando ci sono elementi di disturbo sullo sfondo, e non li potete togliere, perché non è che potevo andare a togliere le varie cose, la tecnica migliore è aprire il diaframma, quindi è un metodo appunto che aiuta a rimuovere lo sfondo, più possibile, è lo stesso anche in questa per dire, mentre sempre lui gattonava, si muoveva, in questo caso guardate, lui guardava fuori dalla finestra, perché c'erano delle rondine, ora stanno facendo il nido fuori da casa, lui li vede che volano, volano, allora gli ride tantissimo, come vede queste rondine è felicissimo, allora in questo caso mi piaceva molto, perché c'era questo sorriso fresco, simpatico, proprio gioioso, e che guardava appunto fuori dalla finestra, ho scattato, stando sempre quasi all'altezza del pavimento, leggermente più alto, e anche lo sfondo in questo caso, l'ho rimosso utilizzando un diaframma molto aperto, questo è fondamentale, che ti permette appunto sempre qua, il diaframma 1.4, ho scattato con il mio 35 1.4 della Canon, che mi permette di avere appunto questo effetto di sfocato, molto molto evidente, questo è fondamentale, oppure anche questa, per dire, mi piaceva un ritratto, per dire, utilizzando anche una regola sul taglio fotografico, chiamata cornice, Leone vedi che sbuca da dietro una tenda, che fa il sorrisino, quindi fa un pochino capolino da dietro, è simpatica come scena, è un ritratto istantaneo, sono tutte istantane, queste qua non è nulla di posato, non ho chiesto a lui di fare questo, però in questo caso lui non guarda me direttamente, guarda dietro, cioè guardava me come persona, ma non la fotocamera, capito? Quindi tenevo la fotocamera bassa, gli facevo così io con la testa, lui mi guardava e rideva per dire, e allo stesso tempo dal basso scattava un'inquadratura diversa, ma lui non guardava me, questo è fondamentale, e qua c'è una luce a finestra laterale, che illumina un pochino il suo volto, oppure lo stesso, la stessa scena, nello stesso momento guarda che ci viene tutto il corpo, non ho tagliato in questo caso nulla, ci sono i piedi, le gambe, tutto quanto nella composizione, anche qua un diaframma aperto, lo sfondo ci sta bene, perché riempie un pochino la scena, la testa di Leone si trova rispetto allo sfondo, su un punto più luminoso, volutamente ho scelto questo, perché almeno tu che guardi la foto, vai a guardare il suo volto prima dello sfondo, perché si trova lo sfondo su un punto vuoto, cioè su un punto chiaro, quindi il volto di Leone che si trova su quella zona chiara, tu per forza lo vai a notare, dopo noti anche tutto il resto, ma per primo noti il suo volto, perché si trova, grazie anche alla regola dei terzi, della composizione, il fuoco ovviamente è sempre negli occhi, questa solita regola, questa fondamentale, quindi in questo caso anche negli occhi, e tutto il corpicino è quasi a fuoco, perché con il diaframma 1.4, a volte alcune parti vanno fuori fuoco, ma se si trova sullo stesso asse, sulla stessa linea, non c'è il bokeh sul corpo, ma è soltanto sullo sfondo, se invece il soggetto si trova rivolto verso me, come nella foto di prima, è facile che anche le mani vadano fuori fuoco, mentre invece se si trova sulla stessa linea, il fuoco è su tutta la scena, come su questa, per dire lo sfondo si perde, e anche la parte del vestitino va fuori fuoco. Bene, ok, ora vi faccio vedere qualche ritratto, è sempre istantaneo, non posato, con un taglio fotografico, con molta pulizia di immagine, questa è una foto che ho fatto a Umbria Jazz, dell'anno scorso ovviamente, che stanno purtroppo non ci sarà, però ecco, per dire ho fatto questi ritratti, con una luce solare che finiva sui volti, perché questo è un ritratto fatto all'aperto, sui concerti, che facevano appunto in giro per Perugia, questa era sul palco, a Giardinetti, quindi per dire, c'era questa luce che finiva sul volto di lui, ho fatto questo ritratto su di lui, con un diaframma anche in questo caso aperto, cercando di pulire più possibile lo sfondo, inquadrando, evitando che ci fossero elementi di disturbo, come appunto lo sfondo scuro, con un tempo molto veloce, un diaframma molto aperto, in questo caso ho utilizzato il massimo, la nitidezza sul volto, utilizzando appunto il fuoco, con il diaframma aperto sul volto di lui, quindi gli occhi sono a fuoco, il volto, anche le mani, ma non il reggi spartito, che si trova davanti, se ci fate caso, che è leggermente fuori fuoco, perché serviva appunto per far riempimento, perché almeno la parte sopra è scura, la parte sotto lo stesso, parte questa linea centrale, che l'occhio ti porta a guardare quello che sta suonando dietro. Lo stesso questo, per dire, sempre utilizzando un'inquadratura orizzontale, ho voluto includere tre persone, però se ci fate caso, ora il fuoco si trova sul soggetto, per voi è di qua, il primo, se guardate la foto, a destra, il primo a fuoco, per dire, quindi che utilizza appunto il sax, sta suonando anche lui, e lui è a fuoco, il secondo meno, il terzo ancora meno, questo perché ho utilizzato appunto in diaframma aperto, perché volevo che l'occhio cadesse sul primo, poi di conseguenza anche agli altri, però utilizzando appunto un po' la diagonale, così tu guardi il soggetto a fuoco, poi l'occhio scende, fino ad andare verso quello fuori fuoco, poi ritorna a quello fuoco, per fare un giro proprio. Lo stesso per questa qua, ho spostato io l'inquadratura leggermente, adesso la parte finale della tromba, del sax finisce sulla mia foto, però per dire si vede per interno nell'immagine, e per la stessa tecnica, ho messo a fuoco il soggetto che sta suonando appunto il sax, mentre gli altri che sono sempre vicini, ma non troppo, per rimanere con lo stesso diaframma a fuoco, questo è un diaframma, in questo caso era 1.8, quindi in diaframma abbastanza aperto, sempre come 1.4 di prima, qui 1.8, quindi la profondità di campo è sempre limitata, dato che è anche un teleobiettivo, un 85, quindi il fuoco appunto è molto mirato sul soggetto, in questo caso il primo a sinistra, che a destra nella foto, al contrario, perché vedo l'immagine riflessa ovviamente, e quindi l'occhio per dire, va sul ragazzo che diciamo appunto è più scuro degli altri, volutamente ho messo a fuoco lui, perché uno va a guardare quelli chiari, poi riguarda lui che è più scuro, però con il fuoco, quindi quelli chiari li noti, ma l'occhio ti ritorna su quello più scuro, perché appunto ho usato il fuoco su di lui, questo è importante, giocare a volte sul fuoco, sul soggetto, che volete che il vostro osservatore vada a guardare, questo è fondamentale, poi ecco vi faccio vedere anche qualche ritratto, che ho fatto a alcuni matrimoni, per dire no, quindi in questo caso, un ritratto che ho fatto all'ingresso della sposa, prima di entrare in chiesa, quando si apre il velo, mi piaceva perché guardate il suo sguardo, va verso il basso, lei sa che io rì, ovviamente no, però non si accorta che mi era avvicinato così tanto, e ho fatto questo scatto, dove il suo sguardo va verso il basso, suo padre in prospettiva dietro, che gli tiene il velo, che è un velo lunghissimo per dire, però mi piace l'idea, che lei si sta preparando per entrare in chiesa, sta sorridendo, è emozionata, tiene in mano il bouquet, e solleva leggermente appunto il velo, e quindi è un ritratto ambientato, un'istantanea, perché a me sui matrimoni piace molto scattare con le istantanee posate zero, e quindi è questa fondamentale, far foto spontanee, che l'immagine è più vera, più naturale, e più bella, diciamo da vedere, quindi in questo caso è un'istantanea di un ritratto ambientato, lo stesso questo, per dire un ritratto fatto degli sposi, questo è un ritratto di coppia dopo, quando siamo andati a fare le foto in centro, a fare le foto in giro, però se ci fate caso, in questo ritratto ho messo a fuoco lo sposo rispetto alla sposa, per far qualcosa di diversa, mi piace far foto sempre diverse, non mi piacciono le foto scontate, già viste, quindi cercare di creare immagini sempre più originali sui matrimoni, per di sui ritratti, in questo caso c'è il ritratto appunto dello sposo che ha fuoco, la sposa è fuori fuoco, però sorride, sorridono entrambi, quindi l'occhio dell'osservatore va a guardare, lei che ride, vede che è fuori fuoco, ricade su di lui, quindi c'è un gioco di inseguimento, perché l'occhio vuole sempre mettere a fuoco il soggetto che ha fuoco, per dire, in questo caso va a ricercare dove è la parte più nitida, quindi la parte del volto del ragazzo, dello sposo in questo caso, che è nitido, preciso, e lo sguardo suo non è, se ci fate caso, rivolto verso di me, rivolto verso un'altra parte, perché io in questo caso ho detto, ragazzi, guarda, io non ci sono, guardate da un'altra direzione, e dicevo ovviamente delle cavolate, per fargli ridere così, io dico sempre, molte cavolate durante i matrimoni, per tirar fuori più gioia nel momento, creando una situazione molto piacevole, quindi non mi ricordo che battuta possa aver detto in questo momento, però per dire, visto che ridevano molto, ho scattato questa immagine, ho fatto sia su di lui che di lei, il fuoco chiaramente, però vi mostro questa immagine, per darvi un'idea di come si fotografa anche, una coppia mettendo a fuoco uno, oppure l'altro, per creare un contesto leggermente diverso, questo è fondamentale, quindi se usate queste cinque regole di composizione, sicuramente i vostri scatti risulteranno migliori, e più interessanti, perché se fotografate soltanto con la solita regola, flash diretto, che appiattisce, ammazza le ombre, e rovinate completamente la tridimensionalità, oppure la solita foto che dite, guarda il fotografo, il nonno dice sempre al nipote, guarda, il fotografo ti fa la foto, rovina completamente la scena, perché non viene naturale e spontanea, questo è fondamentale, bene, la lezione è finita, ma prima di chiudere la lezione, vi leggo le solite domande, che mi avete mandato, allora, la prima domanda è di Daniela, che mi dice, che, aspetta, ah, che fotocamera mi consiglieresti per iniziare, allora, guarda, io non vendo fotocamere, come dico sempre, quindi il mio consiglio è quello di basarti, magari su una fotocamera, entry level, cioè quelle che costano un pochino meno, per iniziare, ti consiglio di iniziare con una reflex, entry level, perché ha un costo, diciamo dai 300, al massimo ai 600 euro, quindi, sempre un bel prezzo ovviamente, però un prezzo sostenibile, un po' per tutti, diciamo, quindi per iniziare, va più che bene, puoi andare anche sull'usato, ovviamente, se c'è qualcuno che rivende, puoi trovare anche 250 euro, inizia tranquillamente con le macchine, che ti consigliano il 18-55, come obiettivo standard, perché per iniziare a scattare, va più che bene, dopo piano piano, uno può arricchire la propria attrezzatura, la marca consigliata, guarda, io lavoro con Canon, però come dico a tutti, io uso Canon per vari motivi, non perché è migliore di altre marche, Nikon, Canon, Sony, sono tutte ottime marche, vanno tutte bene, soltanto che la differenza, la fa sempre il fotografo ovviamente, però ecco, se scegli Canon, chiaramente a Perugia abbiamo l'assistenza, al centro assistenza, se hai problemi, senza che la devi spedire, quindi un vantaggio è quello, Nikon la devi spedire, però ovviamente sono entrambe delle ottime marche, come Sony, Pentax e tutte le altre marche, quindi il modello che ti consiglia, un entry level, non ci spendere troppo all'inizio, perché magari se non ti piace, dopo ti trovi ad avere un corpo macchina, che non utilizzi, quindi investi poco, e poi dopo aggiungi, magari spendi più sugli obiettivi, rispetto che alla fotocamera, perché la fotocamera magari non ha senso cambiarla continuamente, cioè il marketing ti dice di farlo, però non la cambia di continuo, comprane una e usala per un po', fino a che funziona bene diciamo, gli obiettivi chiaramente sono investimenti che fai, perché a lungo termine li puoi riutilizzare, se rimani sulla stessa marca per dire, bene, poi Simona mi dice, vorrei diventare una fotografa professionista, che mi consigli? Eh, bella domanda, qui sarebbe da fare un discorso molto lungo, allora, devi farti prima di tutto delle domande te, no? Se vuoi fare la fotografa professionista, devi chiederti perché lo vuoi fare, non perché ti piace farla fotografa, appunto, sai fotografare, domanda, a che livello fotografi, seconda domanda, sei competitiva a livello tecnico, a livello di prestazioni con gli altri, sai come si porta avanti un'azienda, ci sono tanti fattori che all'inizio, chiaramente uno non conosce, però prima di fare lo step, di diventare fotografo professionista, ti devi formare, formare a livello di preparazione, devi conoscere perfettamente lo strumento, che è la fotocamera, le attrezzature, sapere cos'è la fotografia, in tutti gli aspetti, ovviamente facendo corsi, formandoti in tanti modi, e io faccio tanti corsi di formazione anche per professionisti, però ti dico, il consiglio mio principale è quello di studiare molto, di non essere impreparata, cosa fondamentale, perché ti trovi di fronte a tanti competitor, ce ne sono tanti, questo non vuol dire che essendoci tanti fotografi, nessuno deve farlo più, te lo dicono quelli che hanno paura, che gli rubi il lavoro, io sinceramente ci sorrido su questo, perché ognuno ha il suo percorso, se tu vuoi fare la fotografa professionista, io dico questo, fallo, fallo, perché è il tuo percorso, la tua vita, e fai il meglio per te, non ascoltare nessuno ovviamente, il mio consiglio appunto è quello di formarti, non lanciarti nel mercato abbassando i prezzi per fare clienti, perché ti bruci subito, non provare a fare i servizi che non sei capace di fare, perché anche lì ti bruci subito, e non metterti subito in competizione con gli altri, cerca di collaborare più che altro con professionisti, che ti possono aiutare, perché non tutti siamo cattivi, non tutti siamo rivali, non tutti vogliamo che nessuno faccia il fotografo professionista, io per dire a chi lo vuole fare, consiglio sempre appunto di formarsi, di coltivare prima la passione del fotografo, e poi passarla al professionismo, se pensi che è questa la strada giusta per te, bene, Viviana mi dice, Canon fai colori verdi, Nikon fai colori rossi, come mai? Allora, allora, qui è un discorso anche qui lungo, non è proprio vero che Nikon fai colori rossi, e Canon fai colori verdi, questa è una diceria, nel senso che se tu scatti in modalità RAW, se tu scatti in modalità RAW, non ha, c'è una zanzana, non mi sa, ma appunto, se scatti in modalità RAW, vedrai che, post producendo dopo la tua foto, i colori sono come tu vuoi, nel senso che alcune macchine hanno delle dominanti rispetto alle altre, ma, quando scatti con il JPEG, quando già fai una scelta del genere, Canon verso Nikon per i colori, allora già sei un livello un pochino più avanti, che entri level, quindi ti dico questo, se non scatti in RAW, scattaci, non scattare in JPEG, perché il JPEG è un file già processato dalla macchina, quindi in quel caso ha delle dominanti con i preset della macchina, mentre invece se scatti in RAW, dopo riapri le tue foto su Lightroom, Photoshop, o su Camera RAW, o su altri software, per dire che gestiscono il file RAW, e da lì puoi risistemare i colori, e ti dico che guarda, i colori sono molto simili tra le fotocamere, chi ti dice che Canon c'è colori così, Nikon e cosà, lo dice tanto per, perché io ti dico, post prodotto foto di tutte le marche, tutte, e riesco ad allineare i colori abbastanza bene su tutte, quindi dipende molto dal tipo di post produzione che fai, questa è fondamentale, le dominanti di colori si variano abbastanza facilmente in post produzione, quindi non è la marca, ma è sempre il fotografo, dico io anche in questo caso, perché la post produzione è parte integrante della fotografia, infatti tra poco lancerò anche dei corsi di post produzione anche online, e il corso intermedio, quindi eccoci, lo stiamo organizzando, e aspettavamo appunto la risposta, per sapere come ci potevamo meglio muovere, quindi adesso lo lanceremo e vi terrò aggiornati, quindi bene, grazie appunto per avermi seguito, quindi ci vediamo martedì prossimo, martedì 26 maggio per la prossima lezione, e se non l'avete fatto mettete mi piace alla pagina, e niente, grazie, buona serata, ci vediamo martedì prossimo, ciao! Ciao!